Guarda, dato che sono a casa di mio papà, ora cerco delle foto di me da piccola, perché ne ho qualcuna sul telefono che ho già pubblicato in giro, però secondo me qua dentro ce ne sono di più. Adesso le vado a cercare. Allora, intanto, quelle sul muro, quindi questa ero io da piccola, questa ero io un po' più grande, no ma qua sono uscita malissimo. Questa invece con i miei genitori, mia mamma e mio papà, il Frankie. Poi vabbè, qui ero grande, però ve la faccio vedere perché ero tutta rosa. Qui ero sempre con mio papà. Vabbè, qui spaccavo i culi, raga, penso avrò avuto boh 15 anni, cioè ero fichissima. Qui avevo 13 anni, a quanto pare. Qui ero insieme a mia mamma. No, qua sono venuta malissimo, raga. Questo invece è il mio primo giorno alle scuole elementari. Mia mamma da giovanissima. E mio papà da giovanissimo. Oddio, guardate che belli! No, ma guardate mio papà, guardate che faccia mio papà. Ma bellissimi. Anche qui bellissimi, guardate mia mamma com'è bionda così naturale. Ah, ecco qua, ero io. Qui ero io dentro la pancia di mia mamma. Qui ero io al battesimo, potete già vedere il mio disgusto nell'essere battezzata in una chiesa. Ecco qui insieme a mio papà. Qui non so quanti anni avessi, credo tipo 12. Qui altra foto con i miei genitori. No, ma mi fa troppo ridere la faccia di mio padre, sembra disegnata. Raga, ma cos'è questa 500 rosa? Ma cos'è? La mia voglia di vivere. Ecco, qui avevo già capito che volevo comandare io. Qui sempre io in pink. La mia faccia diceva tutto. Qui io al mare. Qui credo che mi stessi ribellando. Comunque raga, c'è mio padre, c'è, è un buono da paura. No, vabbè, ma... Ok, abbiamo capito che non mi piaceva stare al mare. E qui penso stessi mandando affanculo qualcuno. Anche qui mi sembra che non amassi molto il mare. Questo è un problema, che siamo in mente. Grazie.